buonasera ben trovati con il notiziario di prealpina.it in primo piano il rave party abusivo che è cominciato ieri ed è proseguito tutta la notte a salono all'interno del parco dell'ura centinaia i giovani che sono accorsi tramite il passaparola la musica ad alto volume ha disturbato gli abitanti del rione di cassina ferrara l'area in cui si è tenuto il ritrovo non autorizzato è quella del pratone già in passato teatro di re i parti abusivi e adesso spostiamoci a vizzola ticino dove questa mattina un capriolo è stato salvato dai vigili del fuoco l'animale era scivolato alle 7 del mattino nel canale industriale ed è stato trascinato dalla corrente il capriolo era rimasto quindi imprigionato contro le griglie di filtraggio i vigili del fuoco del distaccamento di somma lombardo l'hanno recuperato e il capriolo dopo essere stato scaldato ed essersi accertati che fosse in condizioni di potersi muovere è stato rimesso in libertà e passiamo ora all'emergenza covente con i dati aggiornati sul contagio sono 1967 i nuovi casi in lombardia a fronte di 39 mila tamponi eseguiti l'indice di positività sale al 5 per cento ieri era al 4,5 in calo i decessi 39 mentre ieri erano risultati 49 in discesa anche i ricoveri sia in terapentensia che negli altri reparti ospedalieri in provincia di varese solo 78 nuovi positivi ma è un dato da valutare con prudenza perché la domenica è sempre risultata un giorno con dati molto inferiori rispetto agli altri giorni le province più colpite dal contagio oggi secondo i dati appunto appena aggiornati sono milano con 672 casi e brescia con 304 e sempre in tema di covid domani non torneranno a scuola 9 classi dell'istituto maggiolini di parabiago perché quattro docenti sono risultati positivi peraltro nessuno di loro aveva manifestato sintomi dalla ts la comunicazione alla dirigente scolastica e al sindaco di parabiago raffaele cucchi che gli studenti delle 9 classi sono in quarantena obbligatoria e infine la giornata sportiva con calcio e basket raccontata nel servizio curato da massimo rovati le immagini sono di domenico ghiotto dell'agenzia blitz ultimo impegno casalingo di regular season per la propatria che nel penultimo turno di campionato sfidava allo speroni un giorno alla disperata caccia di punti salvezza la squadra labronica ha a lungo sperato di completare la sua missione dopo il vantaggio al decimo con dubiccas ma nella ripresa la pro rigenerata in particolare dall'ingresso di masetti la prima pareggiato con un rigore di colai poi con lo stesso masetti all'ottantesimo dopo il secondo vantaggio ospite a 90 minuti dal termine dunque la pro è già certa del sesto posto in regular season che le permetterà di affrontare in casa il primo turno dei playoff in serie d un'altra delusione per il città di varese sconfitto a masnago 3 a 1 dal casale eppure i biancorossi erano passati in vantaggio per primi con e bagua ma nel finale del primo tempo i piemontesi hanno potuto ribaltare la gara chiudendola nel finale quando il città di varese è rimasto prima in 10 e poi addirittura in 9 per il basket occhi puntati sull'enerxeni arena di masnago dove alle 20 e 30 l'open john metis va a caccia della matematica salvezza contro l'allianz trieste nel penultimo turno di regular season con questo è tutto vediamo appuntamento al notiziario di domani alle ore 13 una buona serata